In diretta su Cilento Channel, nella serata di ieri, abbiamo ospitato anche il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, che insieme al Sindaco Coppola ha parlato dell'ospedale di Agropoli e del percorso da seguire per arrivare all'attivazione del presidio. Picarone ha inizialmente affrontato il problema della mancanza di figure specialistiche necessarie per la ripartenza della struttura agropolese. Dotare Agropoli ed il Cilento della possibilità di accogliere pazienti Covid è stato un segno importante, ora abbiamo ospedali Covid e gli ospedali possono tornare alle loro funzioni ordinarie. Ad Agropoli si devono completare i piani di reclutamento, abbiamo bisogno di due anestesisti esperti, dichiara Picarone, e le graduatorie non fanno al caso di Agropoli perché si deve avere personale all'altezza, anche se è difficile in una fase in cui ancora si gestisce l'emergenza. Il lavoro è in corso e c'è un piano, dobbiamo solo pressare affinché vengano riperite le risorse che mancano per attivare le attività previste. Il consigliere regionale però mette in evidenza che questa situazione non è una scusante per non potenziare l'ospedale di Agropoli che necessita di interventi alcuni già programmati dalla regione Campania. Questo non significa che non ci dobbiamo occupare di come potenziare l'ospedale, ci dobbiamo impegnare per avere il pronto soccorso H24 per il quale la regione aveva definito ogni cosa prima della pandemia. Bisogna sfruttare questo momento per potenziare l'ospedale, farlo rivivere. Io per Agropoli ci sono sempre e se io e il sindaco dobbiamo esplorare una soluzione per l'ospedale la esploreremo, conclude così Franco Piccarone.